L'idea del sindaco d'Imperia Claudio Scaiola di realizzare un nuovo acquedotto del Roia sull'ex sedime ferroviario contestualmente ai lavori per la nuova pista ciclabile continua a essere al centro dell'attenzione anche degli altri comuni del territorio interessati, a cominciare da quelli del Golfo dianese di Andorra. Nel corso di una riunione tenutasi in provincia ieri, Scaiola ha ribadito agli altri sindaci la sua proposta e li ha invitati a ragionare su un'intesa che preveda la realizzazione del progetto, finanziando lo stesso in parte con risorse dei comuni e in parte con fondi della regione già assicurati a Scaiola dal presidente Toti. Il primo cittadino imperiese ha spiegato che l'opera potrebbe essere realizzata per lotti cominciando dal tratto riciclabile di prossimo appalto fra Imperia e Diano Marina. Mercoledì prossimo in programma una nuova riunione fra i sindaci interessati al termine della quale potrebbe essere già firmato una sorta di protocollo d'intesa per l'avvio del progetto e per la richiesta ufficiale dei fondi a regione Liguria. Grazie per la visione!